Il punto di partenza del nostro itinerario in Valderigna inizia dal Ponte del Baghetto, che è un ponte sull'Adda in località Castello dell'Acqua. Il nome Adda deriva dalla parola celtica Abdua, che significa acqua corrente. Nel passato, questo fiume ha svolto una duplice funzione sia di confine ma anche di collegamento. Dal 400 fino alla fine del 700, questo fiume ha segnato il confine tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. Infatti, nei promessi sposi di Alessandro Manzoni, Renzo attraversò questo fiume per rifugiarsi nella Bergamasca, per scappare dalla giustizia milanese nel periodo del tumulto di San Martino, cioè della rivolta del pane. Da questo fiume partono altri canali che collegano a Milano, da qui si sviluppano, si diramano altri canali che portano al Ticino e da qui che portano al Lago Maggiore.